Ok, iniziamo da dove eravamo rimasti ieri. Allora aprite il libro al capitolo 5. Bah, non capisco perché dobbiamo studiare questa roba. Capitolo 5, ok sì. Ehi, pasticciona! Guarda qua. Da! Sì! Obiettivo raggiunto! Impressionante, devo dire. Ma guarda qua. Blush! Oh, aspetta, ho sbagliato. Dammi un attimo. Prendo questo. Ecco qua. Sì, ma non batterai mai questo. Guarda come striscio sul soffitto. Ok, c'è del cibo. E ora devo solo prendere gli snack. Prendo tutta la scatola. Wow, super flex prendere tutto quel cibo. Ok, da dove inizio? Direi da queste patatine. Che odorino. Belle croccanti e salate. Ehi, forse dovresti toglierti il costume prima. Cacchio! Ok, forse queste caramelle. Ma dai, che senso avere tutti questi snack se non posso mangiarli? Sorpresa, ti ho preso un regalo. Ecco qua. Ma le voglio davvero queste patatine? Non proprio. Tieni. Wow, grazie. Che succede qui? Oh, no, 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 no. Niente cibo in classe, assolutamente. No, 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 no. Questo non è mio. Giuro. Oh, e vabbè. Aspetta, prima di andartene prendi questa roba. Non fa niente. Prendilo. Tanto io non lo voglio. Non ci credo, ha funzionato. Si è presa lei tutta la colpa. Non voglio. Sono sveglia. Stavo solo riposando le palpebre. Devo essermi appisolata. Oh, è un bravo ragazzo. Fare la tata è noioso. Voglio divertirmi. Potrei scoprire quali poteri ha questo anello. È qui che devo andare. Ups. Ho un'idea. Oh, sì, ecco, sono un corriere. È fighissimo. In che cos'altro posso trasformarmi? Vediamo. Un gatto? No, preferisco i cani io. Una palla? Potrebbe essere divertente. Ok, concentrati. Oh, questo è troppo divertente. Oh, una palla figo. Voglio vedere quanto sono bravo a calciare. David! Quella palla ha appena detto il mio nome. Mi sbaglio? Ci sono solo coppie in giro. Ehi, Olivia. Perché sei così triste? Non è reale, lo sai. No, dietro. Sciocco. Adesso vedi? Sì, sembrano innamorati. Beh, ecco. Sono tutti congelati adesso. Perfetto. Perfetto. Ti metto dove vuoi essere. Ecco qua. Fantastico. Ho sempre voluto ballare in mezzo alla folla. Guardate, festaioli. Uh, si spostiamo un pochino qua. E tu puoi andare qui. Ora questo lascia spazio a Olivia. Oh, scusa. Ti dispiace se prendi in prestito questo? Puoi tenerlo se vuoi. Tocca a te. Piano, piano. Carico prezioso in arrivo. Perfetto. Penso che il mio lavoro qui sia finito. Ora guardiamo tutto in azione. Perché stanno tutti a disagio? Beh, almeno parlano. Invece gli altri... Beh, non ci ho riflettuto molto bene. Non male, non è vero? Ottimo lavoro, ragazze. Continuate a fare quello che state facendo. Questo ha un odore stranissimo. No, non mi piace. E ora smetti di annusare e mescola. Siamo nel laboratorio di chimica. Non in un laboratorio di profumeria. Ok. Finalmente si è distratta. E ora tiro fuori i miei snack. Aspetta un attimo. Wow, ma tu hai degli snack. Daccene un po' anche a noi. Anche a voi, ho avuto un'idea. Terrò questi marshmallow vicino alla fiamma della candela. Che odorino. Cos'è questo odore? E da dove viene? Me lo stavo immaginando. Si vede. Vabbè. Ottimo. È di nuovo distratta. E ora è importante osservare che... Che c'è? Sto mescolando gli elementi. Ora mi nascondo. Così vedo che succede. Che combinate voi due? Niente? Ottimo. Sarà sicuramente lui a fare qualcosa di lusco. Lo sapevo. Pensava di essere furbo, eh? Ahem. Devi dirmi qualcosa? E ora ti do una lezione. Aspetta, non con queste. Volevo dire con questa. Ah, no. Vediamo. So che da qualche parte... Eccola. Basta qualche goccia. Ecco fatto. Ecco qua. Ora sei un unicorno. Spero tu sia contento. e voi due che guardate. Tornate al lavoro. Scusi, non ci trasformi in unicorno. Wow, non lo sapevo. Fa più piano, David. Accidenti che noia. È troppo lento. Oh, questo sembra divertente. Sarà fantastico. Oh, penso che sia rotta. Su, io cosa fare? Che sta facendo? Sì, adesso ho un amico. Andiamo. Più veloce. Woohoo! Woohoo! Ci deve essere qualcosa di divertente qui intorno. Guarda! Dove è andato, David? Ciao, Betty. Scendi subito. Sono sull'albero. Ho detto scendi subito. No, ma non è giusto. Ci è mancato poco. Questo libro è così intenso. Oh, no. Vado a fare una nuotata. Che cosa ha addosso? Sarà fantastico. Fa ridere. Guarda, Betty, sto per saltare. Ecco qui, topo a cannone. Fermati. Fammi controllare l'acqua prima. Brr, fa troppo freddo. No, niente bagno oggi. Oh, ma dai! Non finirò mai questo libro. Sono così arrabbiato. Come vuoi. Come potete vedere. Che c'è? State tutti infrangendo le regole. Niente cibo. Mettete tutto qui dentro subito. E ora compite in classe. Ve la siete voluta voi, mangiando snack in classe. State lavorando? Ok, bene. Ehi, ma che diamine succede qui? Non ci credo. Sta mangiando tutti i nostri snack sequestrati. Aspetta un attimo. Mi è venuta un'idea. Prof, posso andare in bagno? Grazie. Sarà super divertente. Sono geniale. Ok, sono fuori dalla classe. E ora uso i miei poteri. Ecco qua. Ora sono la preside. Ok, pronti. Salve. Sta facendo un compito in classe. Posso controllare io qui. Oh, certo, signora preside. Non l'avevo mica vista. Sarebbe grandioso, sì. Posso avere la vostra attenzione, per favore? Oh, la preside. Tada, sono io. E queste sono le leccorni che ci ha confiscato. Ecco qua, prendete, volete? E vai, ora sì che è una bella giornata. Questa è la scena più divertente. Mi fa amare la bocca dalle risate. Guarda che bei pop corn. Ehi, giù le mani. Oh, ma ho così volga di pop corn. La mia scena preferita. Qualcosa non va. Mi si è incastrato tra i denti. Mi dai una mano, per favore? No! Non sono mica un dentista, sai? Per favore... No. Ti do tutti i pop corn. E va bene, mi hai convinto. Dammi un attimo per prepararmi. E sono dentro! Stavo meglio sul divano. Sembra che sia nel posto giusto. Forza! Ci sono... Quasi! Sì! Però si era incastrato bene. Missione compiuta. Oh, Chris, grazie mille. Non c'è di che. E adesso dai. Tutti i tuoi. Ah, beh, ci ho provato almeno. Ah, quest'acqua è fantastica! Finalmente posso farmi una doccia? bolle sto... Un fantasma! Sono solo io! Fai comunque paura! Esci! Ora vado! Almeno ho una saponetta! mi manca la mia doccia! Ah, ho la mia acqua! Aspetta! Non era pieno! Chissà! Ok, sta succedendo qualcosa! Non bere dal mio bicchiere! Ma non so le risposte! O forse sì! Che spettacolo! Ti aiuto io? Sei il migliore, ragazzo ragno! Ah!